Social Trend, le news a portata di Hashtag, con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti. Buonasera e bentornati su Radio Roma, questo è Social Trend, io sono Esmeralda Moretti, questa sera Matteo purtroppo non è qui con noi, lo salutiamo e siamo pronti per iniziare una nuova settimana, una nuova puntata, chiaramente trattando di tematiche che come sempre fanno parte dell'attualità, spesso anche dei social. Ecco perché questa settimana, o meglio la scorsa settimana, sui social è accaduta una cosa diciamo molto scomoda, molto particolare e soprattutto inaspettata, ossia è venuto a mancare, è terminato l'accordo tra Meta, appunto noi sappiamo che Meta è l'impresa statunitense guidata da Mark Zuckerberg che si occupa della gestione di Facebook, Instagram e anche di Whatsapp, e sia la società italiana Autori ed Editori, e che cosa è successo? Direte voi è saltato un accordo, che cosa sarà mai successo? Beh è successo che è sparita tutta la musica da Instagram e da Facebook, e questo è un danno molto grave per una serie infinita di motivi, in primis perché tutti i video che contenevano musica inserita direttamente dalla libreria di Instagram o di Facebook, sono stati su Facebook bloccati e su Instagram silenziati, questo ha portato enormi danni a tutti quelli che sono i content creator, come vedremo. Inoltre un'altra cosa che è successa, si è scatenato il panico diciamo tra i musicisti, soprattutto gli emergenti, che hanno incolpato CIA di non tutelarli, cioè CIA dice io ho tolto la proprietà dei brani da Facebook per tutelare i musicisti. In realtà i musicisti ritengono che questa mossa sia, diciamo, mossa soprattutto da un interesse economico, perché quante volte è successo negli ultimi anni, pensateci da quando c'è la libreria su Instagram di musica, che canzoni per lo più sconosciute, gli autori poco conosciuti diventassero virali per via di qualche trend, quindi in realtà i musicisti da parte loro, soprattutto gli emergenti, hanno un interesse personale in quella che è la libreria di Instagram di Facebook, perché potrebbe essere che da un momento all'altro un loro brano possa essere utilizzato in sottofondo a un sacco di contenuti. E quindi diciamo che è successa questa cosa molto spiacevole, nel corso di questa puntata andremo ad analizzare tutte quelle che sono state le conseguenze e soprattutto andremo a cercare di capire in che modo si potrebbe, se si potrà, risolvere questa situazione scomoda. Intanto iniziamo facendo il punto con un video che ha pubblicato sul suo profilo TikTok Federico Felletti. Non c'è più la musica nelle stories e nei reels, ma di chi è la colpa? Cerchiamo di capire. Meta, quindi Instagram e Facebook, non hanno trovato un accordo con SIAE, che lente che tutela i diritti degli autori e dei compositori della musica. Accordo ovviamente economico, nel senso che SIAE pretendeva che Marchino Zuckerberg pagasse il dovuto per l'utilizzo di queste canzoni sulle sue piattaforme. Analizziamo le ragioni da entrambe le parti. La SIAE deve tutelare i musicisti ed effettivamente queste multinazionali del web cercano sempre delle scorciatoie per pagare il meno possibile. Per pagare un brano costa soldi, c'è del lavoro creativo, computer, microfoni, casse. Quindi una storia che condivide il frutto di questo lavoro, sì, ha un costo. Che non dobbiamo sostenere noi utenti, rimangono gratis i social, ma con tutte le pubblicità che compaiono fidatevi che qualche soldino in più a SIAE e ai musicisti andrebbe dato. Ha ragione Meta. Beh, non è possibile che questa cosa sia solo in Italia. Di solito ad intelligenza nelle cose mondiali noi arriviamo dopo, non prima. Ma il fatto che Instagram sia senza musica ci fa capire che effettivamente una specie di monopolio sulla musica SIAE ce l'ha. Non so, io non so, da nessuna delle due parti vorrei solo poter continuare a mandare le frecciatine nelle stories. Fatemi sapere perché ne pensate. Ecco, cerchiamo di capire meglio che cosa è successo. Allora, innanzitutto per comprendere la situazione bisogna fare una premessa, cioè fare un passetto indietro e capire come funziona innanzitutto Meta. Cioè la società che gestisce Instagram, Facebook e Whatsapp. Diciamo Whatsapp è escluso da questa polemica perché non aveva una libreria musicale, è un'app di messaggistica, quindi non è... Sì, è un social, però non è un social inteso come Instagram o come Facebook e dunque è escluso da questa polemica perché non aveva una libreria di musica. Allora, Meta come fa ad avere la libreria musicale all'interno della propria app? E come fa ad avere musica? Compra i diritti? Allora, funziona così. Meta, per consentire l'uso della musica sui social, stringe continuamente accordi sul copyright con i titolari di diritti musicali in tutto il mondo. Quindi non soltanto con SIAE che si occupa, diciamo, soprattutto della musica italiana, ma in realtà con altri vari enti che fanno parte del territorio europeo. Infatti ha partner in Spagna, in Francia, in Svezia, nel Regno Unito, in Turchia. E quindi diciamo che la rottura con SIAE, che appunto è una delle più grandi tra queste società con cui Meta continua a stringere accordi, ha avuto un impatto grande sia sui reel sia sulle storie. Questo perché i reel, che sono i contenuti che durano un massimo di 90 secondi e che sono formato TikTok, diciamo, quindi sono proprio dei video, sono stati silenziati perché quasi tutti avevano sottomusica. Invece per quanto riguarda le storie, le storie in evidenza, se voi andate a guardare qualche storia in evidenza che avete salvato e che aveva magari un sottofondo musicale di qualunque canzone, ecco, quella canzone non la sentirete più. Quindi fondamentalmente è stato silenziato, rimosso l'audio da tutto. Indifferentemente è stato rimosso sia l'audio originale, cioè magari voi avete pubblicato un video in cui raccontate, che ne so, come raccogliete l'insalata nell'orto e c'è la vostra voce e sotto c'era la musica che avevate inserito dalla libreria di Instagram o di Facebook. Ecco, Instagram non ha affatto distinzione tra audio originale, quindi audio che proviene dalla vostra fotocamera, dell'iPhone, del telefono, insomma, e audio aggiunto, quindi audio che proviene dalla libreria di Meta. E questo è stato il punto più criticato, come vedremo, perché? Perché tutti quei content creator fondamentalmente, quegli influencer, quelle persone che si occupano di informazione, intrattenimento, divulgazione, che cosa fanno quando girano in video? Loro fondamentalmente parlano, quindi diciamo registrano il loro contenuto con la loro fotocamera, la loro videocamera, poi per tutelare il copyright, per rispettare il copyright, non aggiungono la musica esternamente, cioè quando io edito un video non mixo la musica dall'app sulla quale sto montando i video, ma aggiungo la musica direttamente da Instagram. Questo passaggio fa la differenza, perché? Perché quando voi andate a vedere un contenuto, ormai non potete più farci caso, però se ci avete fatto caso in precedenza, e c'era una musica di sottofondo sotto, sotto al video, non usciva suono originale di Esmeralda Moretti, ma usciva suono di Esmeralda Moretti con musica di, che ne so, gazzelle, fulminacci, cioè col cantante che aveva fatto, cioè del quale era stata inserita la canzone. E questa cosa è importante, perché innanzitutto si permetteva di far circolare consapevolezza, cioè quella canzone non me la sono inventata io, non l'ho presa da un'altra parte senza dare diritti, ma li ho dati, e ho seguito tutte le regole che fanno parte di un documento, che Instagram, Facebook, Meta in generale rende pubblico, che sono le linee guida della community, sul quale appunto compare proprio il fatto che per inserire correttamente la musica bisogna fare questo passaggio. Il paradosso qual è? È che ora che questo accordo è finito, coloro, i content creator che hanno eseguito gli step in modo corretto, quindi che hanno sempre inserito la musica solo esternamente, e non hanno mixato internamente dal loro telefono, dal loro computer prima di postare, sono stati penalizzati. Coloro che invece avevano mixato la musica esternamente, quindi violando già di base il copyright, perché io non posso da nessuna parte ragazzi, neanche su YouTube, neanche mandandola a un amico paradossalmente, creare un contenuto con una musica che non è di mia proprietà, che non ho comprato, della quale non ho pagato i diritti, ecco poi i video però sono ancora lì, quindi questo è il grande paradosso di quello che è successo con Meta, abbiamo detto, su Facebook i contenuti sono stati addirittura bloccati, quindi non sono più fruibili, su Instagram invece sono stati silenziati, e queste qui sono le parole che ha comunicato appunto il portavoce di Meta nei giorni scorsi, che ha detto, purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nuovo accordo di licenza con SIAE, da oggi, cioè il 16 marzo, quindi qualche giorno fa, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del loro repertorio nella nostra libreria musicale, continueremo a impegnarci per raggiungere un'intesa che soddisfi tutte le parti, crediamo sia un valore per l'intera industria musicale, permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme, utilizzando la musica che amano. Ecco, SIAE non è restata in silenzio, ha fatto un post che è stato molto 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 criticato sul proprio profilo Instagram, nel quale compariva una frase tipo «E noi vogliamo tutelare chi crea», frase un po' paradossale perché di fatto forse sono stati tutelati gli artisti, non sono stati tutelati tutte le parti in causa che hanno per esempio utilizzato musica di sottofondo in modo corretto e che adesso si ritrovano con un contenuto bloccato o silenziato. Comunque SIAE ha detto «A SIAE viene richiesto di accettare una proposta unilaterale di Meta, prescindendo da qualsiasi valutazione trasparente e condivisa dell'effettivo valore del repertorio». E questo è quello che ha detto appunto SIAE, che continua «Tale posizione, unitamente al rifiuto da parte di Meta di condividere le informazioni rilevanti ai fini di un accordo equo, è evidentemente in contrasto con i principi sanciti dalla direttiva copyright per la quale gli autori e gli editori di tutta Europa si sono fortemente battuti. SIAE ha continuato a cercare un accordo con Meta in buona fede, nonostante la piattaforma si apriva di una licenza a partire dall'1 gennaio 2023». Quindi addirittura sembra una cosa vecchia, diciamo, e una cosa che ha fatto molto molto scalpore è che all'inizio i primi articoli che uscivano giovedì mattina, non so se avete seguito la vicenda in tempo reale, io l'ho seguita perché diciamo che era una cosa che mi toccava in prima persona essendo creator, sembrava che venendo a mancare l'accordo con SIAE, e ciò che, insomma, la conseguenza sarebbe stata l'eliminazione di tutte le canzoni italiane dalla libreria di Instagram. E quindi la maggior parte di noi non si erano preoccupati perché non avevano fatto uso di musica italiana. Invece il paradosso è stato che in realtà è venuta a mancare praticamente tutta la musica in Italia e tra poco, dopo la pubblicità, vedremo perché. Intanto ci facciamo due risate vedendo questo video ironico di Massimiliano Angioni. Salve, sono Meta, parlo con SIAE. Salve. Sì, vorrei parlare dei diritti della musica nelle storie. Storie delle diritti dei libri. No, le nostre stories su Instagram. Eh? No, per pagare i diritti, come posso pagare... Chi è il direttore d'esecuzione? Non ho capito. Che strumento usano a pianola, a guitarra, il flauto, che... No, è presente in rete, è nell'archivio digitale. Graziana! Fai chiamare la collega, Graziana! Signora SIAE, solo capire come la pago. Carta in testata, marca da bollo e pure il timbro! Ma forse una PEC compilata dal legale... Qua c'era, qua c'era a caldo e devi mettere il timbro, qua c'era! Non c'è un modo più, magari fare un meeting... Deve venire dal lunedì al martedì, dalle undici alle dodici e trenta. Gli consiglio il martedì che c'è stata la mia collega Graziana! Beh, vediamo di... Però io adesso devo andare che mi finisce il turno! Non è manco il mio reparto! Ah, ma noi non... Abbiamo fatto di tutto, guardi, veramente! Certo, grazie, grazie... Sì, 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 è già... Graziana! Graziana, mi ha fatto ridere tantissimo questo video! E ecco, perché, diciamo, il paradosso è stato che si è cominciati a prendere tutti le parti, o di meta o di SIAE, questo è quello che è successo sui social nelle ultime ore, tanto che si sono schierati anche alcuni personaggi politici. In prima linea troviamo il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano. Io, signor ministro, non so lei che conoscenza abbia dei social, tuttavia ritengo che questa dichiarazione... non... non... insomma, diciamo che non denota una conoscenza approfondita dello strumento. Perché? Che cosa ha detto il ministro San Giuliano? Dice, no al far west, i colossi rispettino le opere d'ingegno e la sovranità legislativa degli stati. E poi ha aggiunto, è sacrosanto difendere gli autori italiani e tutelare l'opera del loro ingegno, quella creatività che tanto valore ha nel mondo e fin qui tutto è giusto. Se non fosse che poi nel corso della dichiarazione il ministro ha aggiunto che, diciamo che se non si trova un accordo tutto diventerà un marmorto sterile senza vita, cioè andando un pochino a fare queste metafore che non ho ben capito da dove iniziano e da dove finiscono. Comunque sia questo per dire che qui si pensa che le uniche persone penalizzate dal passato su meta siano gli artisti. E oggi in realtà ad essere penalizzati sono gli artisti, soprattutto gli emergenti, i content creator che non hanno più un audio, ci siamo tutti penalizzati in questo momento. E torniamo su questo punto appena rientriamo dalla pubblicità perché la vera domanda è come mai su tutti, tantissimi, oltre 100 paesi che fanno parte comunque sia di meta, che stringono accordi con meta, solo in Italia è saltato l'accordo musicale? Quindi diciamo che le colpe sicuramente stanno da entrambe le parti, non siamo qui a cercare i colpevoli, però c'è da chiederci perché tra tutti i paesi, soltanto in Italia, questo accordo non è stato rinnovato e ricominciamo esattamente da qui, tra poco. Ben tornati su Social Trend, siete su Radio Roma e stiamo parlando del grande caso mediatico degli ultimi giorni, ossia il mancato rinnovamento dell'accordo tra Meta, la grande società che detiene Instagram, Facebook, Whatsapp e SIAE, cioè la società italiana artisti e editori, motivo per cui in seguito a questo mancato accordo, ad oggi sulla libreria di Instagram e di Facebook non trovate più musica che ha i diritti SIAE, quindi fondamentalmente non trovate più musica, cioè è rimasto mi pare Tananai, poi vi diremo una lista di artisti che sono rimasti perché non hanno SIAE, ma comunque si trovate pochissima musica, principalmente musica classica, musica senza diritti, quindi senza copyright. La grande domanda che si sono fatti tutti quando i primi articoli di giovedì mattina dicevano che questo mancato accordo avrebbe significato la scomparsa delle canzoni italiane per noi da Instagram e Facebook. Ci siamo tutti un po' meravigliati quando abbiamo visto scomparire in realtà qualunque tipo di canzone, tipo io mi ricordo, ho fatto tipo una poker face strana, quando ho visto scomparire sotto un mio video la canzone di Miley Cyrus, ho detto da quando Miley Cyrus è un'artista italiana. Ecco, per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto il video esplicativo di Emanuele Capone. Sì, anche la musica straniera, anche le canzoni straniere. SIAE controlla oltre 62 milioni di canzoni, 62 milioni di canzoni fra vecchie e nuove, non solo gli artisti italiani ma appunto anche gli artisti stranieri, ti faccio qualche esempio Lady Gaga, Kate Bush, pure i Cramps. 62 milioni di canzoni sono veramente tante, tant'è che nel 2018 SIAE è stata multata per abuso di posizione dominante, hanno fatto ricorso che poi è stato respinto, però le canzoni sono quelle. Meta sta rimuovendo già da ieri sera, da subito, i brani da Facebook, da Instagram, dalle storie, dai reel, dai post, silenziandoli completamente e mettendo fuori un cartello oppure suggerendo all'utente, a chi li ha caricati, di scegliere un'altra canzone, perché in effetti ci sono delle alternative, anche se più piccole. C'è per esempio il database di SoundRiff, che gestisce le canzoni di 43 mila cantanti, di cui mi pare 26 mila sono italiani. Il problema è che Meta sta buttando giù, sta cancellando anche le canzoni del database di SoundRiff, infatti quelle di SoundRiff sono molto incazzati e hanno detto che cercheranno di dare una mano per risolvere questa situazione. Vedremo come andrà a finire. Insomma, in poche parole è successo il caos, tanto che addirittura stanno sparendo, qui insomma, Emanuele non l'ha detto, ma io ho visto sparire anche musica senza copyright, perché mi è capitato sotto i miei video di inserire anche musica senza copyright, sta sparendo anche quella, quindi si vede che, come al solito, quando Meta deve fare troppe cose comincia a fare casino, come quello che era successo insomma il 31 ottobre, quando c'è stato il grande bug, profili chiusi, un disastro, e quindi più o meno sta succedendo la stessa cosa. Ora, io parlo un attimo ai creator, quindi a chi porta contenuti e si è visto silenziare tutti i video. Che cosa vi consiglio di fare? Siccome in questi giorni la situazione è stata molto altalenante, quindi sono successe tante cose, per esempio prima tutti i video silenziati, poi è tornato l'audio, poi è tornato l'audio con la musica, poi solo alcuni video silenziati. Ecco, io credo che questo accordo vada trovato. Probabilmente, questa a me sembra, torneremo su questo punto tra poco, però è una cosa seria su cui riflettere, perché questa è una prova di forza da parte di Meta, sotto certi punti di vista, no? Meta è un ente privato, pensa di poter portare le sue regole ovunque, e quindi è vero che siamo noi che ci affigliamo un ente privato come Meta, tuttavia è vero che questo ente privato ha anche preso dimensioni globali, quindi anche la politica dovrebbe piano piano entrare all'interno di questo circuito per legiferare, cosa che ad oggi su Meta non avviene. Ecco, cosa consiglio ai creator? Quindi consiglio di non toccare niente, cioè nel senso che nel momento in cui voi potete ad oggi sostituire la musica che non c'è più con una musica copyright free, però attenzione perché uno potrebbe saltare anche quella, e due, se dovessero ripristinare tutto perché magari arriverà l'accordo e sono sicura che arriverà l'accordo, siamo tutti sicuri che arriverà l'accordo, succederebbe che voi ormai avreste sostituito la musica e quindi perdereste il vostro suono originale e quindi trovereste questo video in cui c'è musica, voi parlate, sembriamo tutti scemi che parliamo senza niente sotto, e quindi io vi consiglio per ora di lasciare le cose così, non ricaricate video, non eliminate i video, non archiviate i video, aspettiamo, vediamo, seguiremo anche qui su Social Trend gli svolgimenti nei prossimi giorni, magari la prossima settimana, e capiremo insieme come muoverci. E non perché io sia megalomane, ma perché ci ho ragionato molti in questi giorni, vi faccio vedere un video che ho pubblicato sul mio profilo Instagram, in cui vi faccio vedere qual è davvero il problema per i creator italiani. Qualche riflessione sul caso Sia e Meta. Mi sento di parlare a nome di tutti i creator italiani. Per chi non mi conosce, ciao, mi chiamo Esmeralda e sono una creator. Sul mio profilo mi occupo di informazione e divulgazione culturale, soprattutto filosofica. Nella giornata di ieri, io come la maggior parte degli altri creator italiani, ho visto sparire la maggior parte degli audio dai miei video. Video che raccontano di più di due anni di percorso per me su Instagram. E che adesso, in un attimo, non ci sono più. Creare un contenuto di stampo divulgativo culturale richiede davvero tante ore. Per me è un minimo di sei ore, tra il tempo in cui io scrivo il video, il tempo in cui giro il video, il tempo in cui lo edito, e talvolta devo anche andare in qualche posto particolare per fare qualche ripresa particolare. Quindi questo per me è un danno enorme. Mi sembra di aver buttato un sacco di tempo della mia vita. La cosa che personalmente mi fa più male è che tutto questo è successo nonostante io e tutti gli altri creator a cui è successa questa cosa, abbiamo fatto molta attenzione a seguire le regole di meta. Questo significa caricare la musica direttamente dalla libreria di Instagram e non caricarla esternamente in fase di editing come invece fanno altre persone, perché questo sarebbe una violazione di copyright. Ad oggi invece cosa succede? Che chi ha caricato video con musica esterna e poi caricata su Instagram, c'è ancora il suo video. I nostri video invece non hanno più l'audio. senza contare che i nostri video risalgono ad un momento in cui l'accordo tra sia e meta era ancora in vigore e quindi l'accordo di ieri non dovrebbe essere retroattivo perché questo non è corretto. Va bene cambiare le cose, ma io penso che sia importante farlo in trasparenza e mi auguro che almeno l'audio originale dei nostri video senza musica venga ripristinato. Fa un sacco ridere questa cosa di tipo iolaio qua, beh, niente. Comunque sia sì, il punto è proprio questo, chiaramente la retroattività dell'accordo a cose dovute, dovuta al fatto che la piattaforma, cioè gli accordi di base non sono mai retroattivi, però teniamo conto di due cose. Intanto che meta è una piattaforma privata e poi che quando si tratta di librerie, in questo caso libreria musicale, come fai a togliere i brani però lasciandoli nelle cose già pubblicate, cioè sia avrebbe potuto e avrebbe fatto causa di continuo. Quindi insomma, capiamo i punti sia di sia e sia di meta, ecco, però risolvete, nel senso che io non ci credo che i potenti mezzi di Mark Zuckerberg non riescono a separare la traccia audio da quella originale. Se l'avete mixata in fase di pubblicazione siete stupidi, perché è chiaro che se c'è un accordo in vigore l'accordo può finire e non potete penalizzare tutto il mondo dei creator che tra l'altro ha seguito le vostre regole perché perdete credibilità. Ma, cioè questa è la vera cosa, la gente sta andando via, sta andando su TikTok, sta andando su Twitch, io amo Instagram, ma non mi sento più al sicuro e questo non è bello. Chiusa questa parentesi morale, facciamoci due risate, anzi prima di farci due risate io invito a parte scherzi tutti a ragionare seriamente sulla serietà di quello che è successo. Instagram oggi c'è, domani non c'è, così vale per Facebook, così vale con TikTok, tutto quello che è digitale in uno schiocco di dita può andare via, può sparire. Quindi consiglio a tutti di chi lavora sui social soprattutto di spalmare su tante piattaforme, su tante attività, perché il rischio comunque è molto alto, è uno stress infinito lavorare sui social soprattutto per questo motivo, sarebbe bello se i social fossero tutelati, chi lavora sui social fosse tutelato e ci fosse un controllo maggiore. Ora possiamo farci due risate e insomma, sono usciti tanti meme questi giorni sui social e in primi se vi faccio vedere questo video che ha fatto troppo ridere sicuramente riconoscerete subito il protagonista il topic è Meta che dice Meta, cioè quando praticamente è successo questo scandalo cioè non c'era più la musica come avrebbe risposto Meta? Meta a me che voglio io le posso cantare la canzone sei sotto un cielo sbagliato sotto un cielo sbagliato e tra l'altro c'è qualcuno che ha anche colto l'occasione per richiamare alla memoria il buon vecchio Titanic vediamo come questa è arte e intanto Lorenzo Baglione su TikTok canta Wai La Siae Come on Zuckerberg Wai La Siae Don't fare i bischero Wai La Siae Ce l'hai with mogo Odessa il remo show Without music Siam nella popò Ogniamo Zuckerberg Wai La Siae Tra everybody proprio Wai La Siae Fai pace with l'Italy Che finalmente è così Rimettiamo la music nei reel Ci fai venire le crisi Zuckerberg Ecco allora insomma io ragazzi ho fatto tante risate adesso ci spostiamo su Twitter che è stato veramente la giungla Twitter quando succedono queste cose soprattutto è sempre pronto a scagliarsi contro Instagram chissà perché questo utente scrive vi voglio proprio vedere ora a postare storie con la bocca a becco di papera col sottofondo musicale della Turandò della Tosca o della Quinta Sinfonia di Beethoven perché infatti la critica più insomma il lalamentela diciamo non è stata una critica più potente è stata oh no adesso come le lancio le frecciatine e tutto l'arco senza le canzoni rap di Salmo di Coetz di Mambolosco e quindi niente le lanci con Beethoven e poi un altro utente scrive chi fermerà la musica e ovviamente la risposta è la sia e questa mi ha fatto molto ridere e arriva l'ultimo utente che secondo me diciamo ha accolto davvero il punto il grande problema degli adolescenti di oggi e cioè le mie storie su Instagram rovinate ora e ha messo appunto questa foto di insomma niente ragazzi diciamo che la situazione è tragicomica però ecco diciamo che con la censura della musica sui social c'è qualche artista che potrebbe salvarsi questo perché perché dovrebbe essere possibile ricorrere al repertorio come diceva anche prima l'utente del quale abbiamo proiettato il video degli artisti italiani che si sono rivolti a Sound Reef per la gestione dei propri diritti e quindi non assia e anche se in questo momento di panico sta sparendo tutto quindi non ci fate il conto ma sembra che ci siano appunto 26.000 autori solo in Italia come diceva appunto giustamente prima anche l'utente 43.000 autori in tutto e in Italia chi c'è? Per esempio c'è Fabrizio Moro Paola Turci Fabio Rovazzi Enrico Ruggeri anche Laura Pausini J.A.X IPUI Articolo 31 Gigi D'Alessio Morgan Nesli Sfera e Basta quindi insomma Sfera e Basta potete usarlo Ercomi Marco Masini Tedua Bresch Federica Abate e Bundabash ci sarebbe anche Noiz Narcos ultimo infatti che ridere io la mattina che ho aperto che dovevo mettere la musica di sottofondo una cosa trovavo solo ultimo e niente mi ha fatto molto ridere questa cosa e quindi questi dovrebbero essere gli autori che anche qualora non si trovasse mai più un accordo cosa che trovo improbabile sinceramente saranno sempre disponibili quindi insomma male che vada c'è ultimo noi ragazzi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa sera vi promettiamo che monitoreremo la situazione meta si ha e anche perché riguarda praticamente tutti noi tutti noi non possiamo più fare frecciatine non possiamo più mettere lo sfondo musicale alle nostre storie quindi vi terremo aggiornati vi ricordiamo che tutte le puntate potete recuperarle su radioroma.it vi ringraziamo appunto per essere stati con noi questa sera e ci vediamo anche domani sera sempre alle 19 in replica e alle 23 Social Trend le news a portata di Hashtag con Matteo Acitelli ed Esmeralda Moretti